Marta Peccianti impegnata con gli europei di karate in Inghilterra dal 16 al 21, tu che disciplina andrai ad affrontare? Io parteciperò nella disciplina del katà singolo perché può essere fatto anche a squadre che brevemente consiste in una serie di tecniche che simulano un combattimento immaginario quindi al di là della forma che può sembrare anche vuota e priva di significato c'è un grande contenuto e una grande importanza per lo stesso karate. E' il primo anno che affronti gli europei? No, l'ho affrontato anche l'anno scorso però che si sono svolti in Serbia l'anno scorso ma quest'anno è decisamente diverso, sono passata a una categoria successiva, mi sono allenata molto più duramente di più e quindi anche le aspettative si promettono buone. A quanti anni hai iniziato? Io ho iniziato non molto presto in realtà, ho iniziato cinque anni fa però la mia passione è stata subito rivolta al karate, mi sono subito sentita portata quindi anche non iniziare prestissimo da bambini non è un handicap per questo sport. Ecco, quanto lavoro c'è dietro e soprattutto per arrivare a questi livelli? Parecchio, soprattutto ci vuole molta determinazione perché le fatiche si superano, ci si allena, ci si fa anche male certe volte ma il tutto si supera con la determinazione di chi vuole raggiungere un obiettivo e vuole seguire questa via del karate. Grazie a tutti!